No alla riperimetrazione del parco regionale Sirente-Velino. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 14 dello scorso 8 giugno che cancellerebbe circa 6.400 ettari degli oltre 54.000 che costituiscono l'area protetta. Talune di esposizioni, recita un comunicato di Palazzo Chigi, si pongono in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117 della Costituzione. Sarà quindi la consulta ora a dover decidere se la legge è in contrasto o no con l'ordinamento. L'articolo 117 infatti stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva riguardo la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Esultano le associazioni ambientaliste. Il Governo ha accolto le nostre richieste, fanno sapere dal WWF. In primo piano la salvaguardia delle diverse specie protette che abitano il parco. Lupi, orsi, camosci che attraversano l'Abruzzo lungo i corridoi ecologici. Nell'area protetta inoltre sono comprese zone speciali di conservazione, zone di protezione e siti di interesse comunitario. Impugnata dal CDM e la legge regionale, il PD parla di fallimento della giunta Marsilio. La riperimetrazione del parco però è il traguardo di un percorso lungo 20 anni. A ridurne i confini ci provò l'allora assessore di centro-sinistra Stefania Pezzopane, poi ancora il centro-destra con la giunta Chiodi nel 2013. Seguì la giunta D'Alfonso con l'assessore Di Matteo per la costruzione di nuovi impianti scistici e oggi la legge regionale della giunta Marsilio promossa dall'assessore imprudente. Due settimane fa, dopo sei anni di commissariamento, il sindaco di Fagnano, Francesco D'Amore, è stato nominato da Marsilio nuovo presidente del parco regionale, su indicazione dei sindaci dei 22 comuni compresi nell'area protetta. I miei concittadini vorrebbero uscire dal parco, ci ha spiegato il neopresidente raggiunto al telefono. I danni all'agricoltura causati dalla fauna ricadono sulle attività della zona con ristori lenti e incerti e qualsiasi decisione sul territorio deve essere approvata dalla sovrintendenza, rallentando così anche la ricostruzione post terremoto. Rischiamo di diventare ospiti in casa nostra, ha detto il primo cittadino di Fagnano, che comunque assicura che in quei oltre 6.000 ettari esclusi dal parco non ci sarà alcuna speculazione edilizia.